Molte volte ci siamo trovati in quest'aula in commissione a discutere e parlare di crisi del settore dell'automotive in Italia, di delocalizzazioni, di cassa integrazione, di licenziamenti. Ma cosa c'è davvero dietro a questi termini, a queste parole? Parliamo di persone, parliamo delle loro vite, parliamo delle loro famiglie, perché vede, Presidente, la crisi dell'automotive. E' ad esempio Marco, un piccolo imprenditore che perde le commesse e non dorme la notte perché ha paura di licenziare i suoi dipendenti. Delocalizzare è Maria, impiegata di 50 anni, che vede il proprio lavoro trasferito all'estero e magari quella stessa azienda ha preso dei soldi dallo Stato poco prima. La cassa integrazione è la storia di Enzo, impiegato di 35 anni, specializzato, che non sa se riuscirà a mantenere gli studi dei propri figli. E un licenziamento potrebbe essere la storia di Giuseppe, operaio di 55 anni, che deve chiedere aiuto perché non sa come pagare il mutuo e rischia di perdere la casa dopo una vita di lavoro nella sua impresa. Allora io non so se abbiamo veramente capito, noi sì, ma se voi avete capito che dietro alle percentuali, alle cifre, ai numeri, ci sono storie reali, sono in gioco le vite delle persone. E appunto a me pare proprio evidente che questa maggioranza e questo governo non ce l'abbia chiaro. Perché se così fosse, se fosse chiaro, che cosa dovreste fare, o meglio, cosa avreste dovuto fare in questi mesi di governo meloni? Intanto avreste dovuto adoperarvi per risolvere le tantissime crisi aziendali presenti sul tutto il territorio che riguardano moltissime filiere. Ascoltando anche le parti sociali, Ministro, guardi, io un po' di cancelli li ho girati. Io non ho mai, mai visto un membro di questo governo, un sottosegretario, che va ai cancelli delle aziende per parlare con i lavoratori, con i lavoratrici che sono disperati. Dovreste rendere strutturali i tavoli di lavoro al Ministero per non ricominciare ogni volta da zero. Dovreste vincolare le risorse pubbliche per le aziende perché non è possibile, non è accettabile vedere aziende che intascano soldi pubblici e poi se ne vanno. Dovreste, e qui sì, Ministro, sarebbe davvero l'ora, smettere di nascondervi perché è molto facile farlo, dietro la scusa della transizione ecologica. Il mercato ormai è cambiato, credo che siamo d'accordo su questo, almeno su questo. E sono anni, lo dicono i numeri, che le case automobilistiche stanno convertendo le proprie filiere. La previsione è che entro il 2030, piaccia o non piaccia, a voi fa paura la parola elettrico, l'abbiamo capito, il 70% dei veicoli venduti in Europa saranno elettrificati. E voi cosa fate? Il solito schema. Si fa finta di non vedere, si prova a mettere un muro e magari si mette anche la testa sotto la sabbia. Allora io lo ripeto anche qui, il Movimento 5 Stelle lo dice ormai da moltissimo tempo, la transizione è già in atto e non è che possiamo molto scegliere. Allora o ne vieni travolto come uno tsunami che si porta via tutto, imprese, lavoratori, lavoratrici, perché questa cosa comunque accadrà e ci troveremo a comprare le auto prodotte all'est elettriche e non prodotte qui, oppure il buon senso direbbe che la si prova a governare e quindi ne diventiamo protagonisti, provando a rilanciare le nostre filiere. E però questo significa fare delle cose, significa ad esempio, come chiediamo nella nostra mozione, di accelerare la conversione della filiera, significa, e voi avete paura di questa parola, ripensare gli ammortizzatori sociali, perché oltre a salvare i posti di lavoro, che ovviamente vanno salvati, bisogna anche prevedere la formazione necessaria per rientrare nelle nuove filiere. Però no, non solo c'è un no al nostro impegno, nel vostro proprio non ne parlate. E poi bisogna avere il coraggio di investire in quelle infrastrutture che fanno parte del nostro paese, come ad esempio il tema delle colonine elettriche. E il ministro lei potrebbe dire, ma perché siamo qui con una mozione, perché siamo qui a ribadire queste cose per l'ennesima volta? Perché a me pare evidente che in questi 16 mesi voi ci abbiate fatto capire una cosa, semplice, chiara, e che voi non sapete cosa significhi fare politiche industriali in questo paese. Facciamo l'esempio di oggi, che è quello più di attualità. Guardiamo l'auto. Vede, ministro, voi siete uno strumento nelle mani di Stellantis. In commissione, lei, ministro, e devo dire che apprezzo la sua sincerità, davvero l'apprezzo, due settimane fa lei ha candidamente ammesso di aver condotto sull'automotive una battaglia in Europa per i sussidi e per i modelli Euro 6 e Euro 7 su espressa richiesta di Tavares, cioè l'amministratore delegato di Stellantis. Allora la domanda spontanea, che a me è venuta, che non è venuta, è ma a fronte di quale garanzie ottenute da Stellantis? Più posti di lavoro? Più investimenti? Più produzioni di auto in Italia? O solo una pacca sulla spalla perché va bene così? E allora questa domanda gliel'abbiamo fatta, ministro, gliel'ho fatta io personalmente, in commissione. E purtroppo la risposta è stata un'inquietante scena muta. Così come ministro l'ha ribadito anche oggi in Aulan con le sue parole, è inquietante il rapporto che avete con la Cina. Cioè è inquietante veder cancellare dall'oggi al domani, per motivi prettamente ideologici, la via della seta, perché così avete fatto, per poi provare a costruire una via della seta dell'auto, lei ha parlato ovviamente di produttori cinesi, per rispondere alle pressioni degli Elkan, perché questo è stato. Questo ministro non è fare politiche industriali, questo è navigare a vista e anche in modo ondivago è dannoso. Però non è che ci potessimo aspettare molto di diverso, da un ministro, lei ha un record, che in solo 16 mesi riesce a aumentare il prezzo della benzina, togliendo in realtà lo sconto, e incolpare i benzinai. Inventare il carrello tricolore contro l'inflazione, talmente fallimentare che l'ha tolto lei stesso, perché non mi sembra che oggi sia facile comprare il latte e il pane e le persone stiano bene e non abbiano a che fare con l'inflazione. Creare il liceo del Made in Italy, con ben 375 iscritti in tutta Italia, che grande successo. Insomma, solo fallimenti. Che poi, a ben pensarci, quella scena muta di cui parlavo prima è la stessa scena muta che sta facendo il governo, non solo lei ministro, ma lei ne fa orgogliosamente parte, sull'economia. Dove siete oggettivamente immobili, anzi, forse mi sbaglio, non siete immobili, peggio, ove mi muovete fate danni. Avete eliminato tutte le politiche economiche di crescita, le avete sostituite con il nulla, avete tagliato tutto il tagliabile, addirittura le pensioni delle donne come opzione donna o la sanità che ha lo sbando. Avete aumentate le tasse a tutto e a tutti, addirittura sui pannolini e il latte in polvere. E poi cosa fate? Da mesi, da mesi, nei salotti televisivi, sui giornali, raccontate un paese che rinasce grazie alle vostre fantastiche politiche. Ma io mi sono chiesta, ma ci è andata a fare la spesa al mercato? Con le centinaia e migliaia di persone che lavorano in aziende, che fanno fatica a tenere gli ordini, arrivare a fine mese, sono in ansia, ci parlate? Con i piccoli imprenditori che falliscono perché i mutui sono alle stelle e voi non avete fatto nulla. Vi confrontate con quei commercianti che hanno chiuso perché non ce la fanno più arrivare a fine mese? Ogni tanto un caffè lo avete preso? Perché, vede, Ministro, non è un caso. Non è un caso quello che sta accadendo. Non è un caso se la crescita oggi è dello zero virgola. Non è un caso se il 63% della popolazione fa fatica a arrivare a fine mese. Non è un caso se la produzione industriale cala da 11 mesi di fila. Non è un caso se il potere d'acquisto delle famiglie è calato del 4% nel 2023. E non è un caso se esplosa la cassa integrazione, come non è un caso, purtroppo, che a gennaio abbiamo perso 34.000 posti di lavoro. E sa perché non è un caso? Non è un caso perché se questa maggioranza avesse il coraggio di guardarsi allo specchio capirebbe che no, non è il fato. È proprio l'effetto delle vostre politiche fallimentari che state portando avanti a danno di questo Paese, dei lavoratori, delle lavoratrici e delle imprese che ne fanno parte. E allora il futuro non è eroseo perché non abbiamo ancora messo le mani sull'altro grande vostro pacco che ci avete lasciato e cioè il nuovo patto di stabilità perché oltre a questo arriveranno 12 miliardi di tagli e nuove tasse all'anno. Questo state lasciando in eredità alle future generazioni. E vado a chiudere, Presidente. Vi siete insediati, lo ricordo benissimo, con un motto. Non disturbare chi vuole fare. Allora io a distanza di 16 mesi ho capito che voi, no, non vi riferivate alle piccole e medie imprese, non vi riferivate agli imprenditori che fanno fatica con la burocrazia, a chi vuole investire. No, voi pensavate ai falchi di Bruxelles da cui vi fate dettare la politica economica, cioè tagli e tasse. No, non vanno disturbati loro. Voi vi riferivate a Washington da cui prendete gli ordini sulla politica estra, guai a mettervi contro quello che dicono gli USA. Voi vi riferivate alle lobby come quelle delle banche a cui avete chinato la testa appena hanno chiesto di togliere una tassa giusta che toccava gli extraprofitti, guai a disturbare le lobby delle banche come le lobby delle armi. Lì 10 miliardi li avete trovati, eh? Già 10 miliardi li avete trovati per le armi. Per loro la coperta è sempre lunga, per gli altri è corta. E allora chiudo, Presidente. Dopo 16 mesi di governo abbiamo capito. Abbiamo capito cosa voleva dire quella frase. Voleva dire semplicemente che per voi l'importante è non disturbare chi vi manovra, cioè chi manovra questo governo. E allora, Presidente, è altro che governo a difesa del popolo, voi siete patrioti alle feste di partito e incapace di difendere gli interessi nazionali del popolo dove contano le scelte. Grazie.